Questa partecipazione, grazie, un bel applauso. Non voglio parte delle nostre acroalimentari della Capitanata e non solo, ma soprattutto premiremo. Ecco, 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 no, no, io volevo... Non sa perdere quel tratto di un... ...i grandi magazzini a Rosalonda. Oggi vedere un prodotto Pugliese, vedere un prodotto della Valle d'Indria, mi permetto di dirlo, in uno scaffale... ...si chiama Italy, e quindi, ecco... ...dell'Università in cui è arrivato la sua partecipazione. ...intenzione da questa parte... ...grazie. ...vi sei... ...una di... ...estavate bene lì, stavate bene, stavate bene lì. ...estavate bene lì. ...adesso, no, 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 no. ...